E che ci mangiamo oggi? Un risotto con melanzane e provola affumicata, super filante e da leccarsi baffi. Tagliamo la melanzana a piccoli cubetti. E la friggiamo. E appena sarà ben dorata la scoliamo su carta assorbente. Tagliamo a pezzetti la provola affumicata. Madò che buona, se fosse per me non arriverebbe nel risotto. Ma ci arriverà. Rosoliamo la cipolla con un po' d'olio, tostiamo il riso con un pizzico di sale, fino a quando non diventerà traslucido. E sfumiamo con un goccino di vino bianco. Lo facciamo evaporare e aggiungiamo man mano il brodo caldo, fino a portarlo a metà cottura. Ed uniamo il concentrato di pomodoro diluito con un po' di brodo caldo. E solo qualche minuto prima di terminare la cottura, uniamo anche le melanzane. Ed ora la parte più golosa, burro freddissimo, parmigiano e mantechiamo. E infine abbondante basilico e provola affumicata. E lasciamo riposare qualche minuto. Giusto il tempo che diventi filante. E guardate un po' che spettacolo cremoso filante, non potete capire quanto è buono. E prima che si raffreddi subito nel piatto, lo battiamo per appiattirlo e via con l'assaggio. E vedi che ti mangi. E preparatelo, è la fine del mondo.